ragazzi questa serie avverrà alternata cioè avverrà prima sul mio canale poi sul canale di endermoly poi sul canale di greso quindi andate a visitare anche gli altri due canali vi lascio il link in descrizione e ciao e bella tutti ragazzi qua e bazookay parla e oggi siamo in un multiplayer nuovo con dei nuovi amici che mi stanno picchiando non ti si sente è inutile aspettate amici no non ti aspettiamo perché tu sei cattivo e mi lanci i semi è vero però ora cosa facciamo ci incontriamo tutti qua dove c'è il pollo non ucciderlo ma gli facciamo la fossa ci sono caduto dentro non non si sente niente molinari di quello che stai dicendo però facciamo finta che cosa è comunque io mi frego i sapling cosa scappi è dove scappi dove scappi è è un bullo è lui che mi picchia i sapling vanno ripiantati se no si deforesta tutto io ne ho cinque comunque vanno ripiantati perché se no dopo si deforesta tutto e qua è già notte abbiamo iniziato a registrare da due minuti e qua è già notte non abbiamo un letto neanche una casa e tra poco ci saranno una miriade di zombie nessuno ti sta uccidendo ma che team un altro sapling chi è che ha fatto un upgrade punto fuori ma io non vedo io sinceramente non vedo più niente non so voi ma io non vedo più niente preso tieni la spada me la prendo io ma te l'ho già data bazook lo so e ne prendi due io non vedo niente al solo luminosità di minecraft ce l'ho al massimo no perché dopo la webcam per i miei iscritti che li vedono male i tuoi iscritti famosi i tuoi 54 iscritti aia mi sono fatto del male aia mi sono fatto del male comunque io uccido quel pollo lì perché così ci da carne e ah zombie cosa eh si ce l'ho però si ce l'ho però non le uso e perché io sento quello che fai sento che colpisci con e vabbè almeno sapete cosa sto facendo ma non me ne frega di cosa stai facendo e a me invece si va bene perchè non mangi perchè io posso c'ho le mele e le mangio e io puoi un shot dei pochi anch'io sono gli zombie quindi non è piso eh clicca esp eh esp eh esc clicca e guarda la difficoltà e easy no c'è la c'è la ripresa guarderete nel video nella mia c'è scritto peaceful e nel mia c'è scritto easy e va bene io li sto uccidendo per avere il cibo mettila in hard ok no no scherzo scherzo ormai l'hai detto no perchè mi si stanno rigenerando le cosciotte quindi non è in hard a me no non suona il telefono perchè qua non prende neanche il telefono è diverso è e a me arrivano messaggi però non si sente sono morto ma come hai fatto ah sono morto nel punto di spawn però sono morto cadendo da un albero aiuto ci sono dieci zombie che mi vogliono uccidere anche se sono tipo tre o quattro però per me sono dieci io li posso attraversare non troverò mai i miei oggetti ne sono pienamente consapevole ragazzi sto trovando sapling e mele sugli alberi ciao una grazie ciao una grazie ciao una grazie sto trovando di nuovo sapling ma vogliamo fare qualcosa in questo episodio oppure soltanto io che mi sfascio le gambe no io sto seguendo le achievements le achievements si io scappo dagli zombie devo fare una zappa ma che una zappa per piacere rifarmi un piccone una spada di cobblestone che io sono morto no c'è un ragno qua però ma i ragni danno le stringhe e con le stringhe si può fare la lana quindi si può fare un letto ecco dai 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 io muoio sono morto dove siete ah i miei zombie ma tu non avevi mica visto il vostro nome si l'avevo visto ma poi mi è scomparso ah zombie li ho sentiti grazie ai bagni no chi è che mi sta uccidendo ma mi sta uccidendo il nulla ti giuro il nulla mi sta uccidendo io picchio gli zombie oh ma mi avete cosa ma io sto morendo sono morto ma voi hai ucciso l'enderman alla fine si l'ho ucciso ma perchè ho cambiato cioè ho cambiato la difficoltà e quindi si è buggato mi sono accorto stavo morendo dal nulla e non era la fame mi faresti un piccone un piccone non ho legna tu hai legna bravo fai la braccia io no e mi droppò i fili io uccido un ragno e mi droppò i fili mi dicono che i verbi sono giusti e qua c'è no ho due fili ok si perchè ha preso yt e gli dicevi giusti no ho quasi perso una torcia ma c'è qualcuno diopato in questo server io ah io sono proprio pigi di gupi no no creeper creeper via ma dove i creeper io non voglio esplodere io sono in un posto non parla e io non sono muscolare io sto trovando soltanto cobblestone lo sto prendendo il giro sto cercando cibo perfetto come hai trovato i maiali come hai trovato i maiali fagli accoppiare che così già abbiamo carne infinita e poi farne un recinto si perchè sicuramente io ho le carote ho le barbabietole sicuramente ho le barbabietole eeeh stavo strozzando ma fai a strozzarti senza mangiare niente ecco la saliva io mi strozzo no sempre capito io da solo mi strozzo con la saliva senza fare niente io no io no non mi strozzo no ho trovato i fiorellini adesso torno che i fiorellini quelli altri le rose e anche quelli rosa ma io ho trovato una vena di carbone che in confronto alle peggiori miniere di non so cosa non ce n'hanno di carbone sono tipo a metà stack oh yes cosa facciamo invece sto prendendo le rose stai zitto ti vanno facciamo il no ho trovato altri maiali eeeh facciamo una facciamo una fortezza come tipo i nani di lobby te la facciamo dentro nella pi- nelle montagne eeeh perchè io guardo lobby eeeh io ho po- ho po- io ho guardo non vedo niente tutte le stagioni tre volte al giorno di che cosa di stagioni del lobby ma è un film ah eeeh e vabbè io ho inventato le stagioni io ho inventato le stagioni di un film si ma voi avete una crafting table io no però ho la legna però sono lontano e sto prendendo i papà mi dite le vostre coordinate che mi sono perso il pane io sono ancora alla miniera mi dite le coordinate eh dindi le coordinate le coordinate sono meno 44 64 261 io sto prendendo la carne sì perfetto ora mi faccio un crafting table ho trovato troppi maiali tipo adesso facciamo il peggio perché sono stupido sono caduto in una miniera a casa ho finito l'ascia per uccidere i maiali ma devi usare la spada non l'ascia no perché l'ascia fa più danno lì da bolsotti lascia lascia no che imbazzita adesso sto morendo di fame scherzo no no un creeper un creeper sono morto non scherzo ti ho sentito dove sei? sono dove io sono ah sì ho venuto nome fermo fermo io sto morendo di fame perché ho la prima pensavo che un maiale mi stesse picchiando invece no mi starebbe ah mi starebbe se picchiando eh non ho capito niente ho tre cuori sì eh vabbè e allora anche se hai tre cuori intanto le eco shotte si rigenerano tipo da sole eh magari prima devono cuocere muori ma chi? ma mi sono perso un maiale che si nascondeva dietro l'erba e non riuscivo a picchiare Bazzuc mi dai le tue cardinate no perché mai scrivele in chat dai Bazzuc così torno al nome guarda il mio nome e seguilo sì perché lo vedo sono tipo a 3.000 blocchi da te ma lo vedo è tranquillo ma 3.000 però 2.000 allora le coordinate sono aperte le virgolette a capo nero 46 46 ehm spazio 66 spazio 258 ma se non faccio lo spazio non riesco a venire da te non lo so so che io ho tutto il lavoro super segreto che dovevo fare l'ho fatto quindi adesso arriviamo e ci troviamo le sorprese no ho un cuore mi stanno seguendo no io ho le sorprese voi no io ho 34 cosciotte ancora da cuocere ho la vita al massimo e la fame al massimo beh allora io diciamo che ho un piccone di ferro una spada di ferro il mio piccone è in pietra e poi di ferro ne hai lasciato un po' anche a lui non è che magari l'hai finito no perché non l'ho finito e ho anche scusate ho anche un accetta di ferro ah bravo io ho un cuore non ho più di ferro l'ho appena finito con l'accetta no ma grazie mille io dopo se voletevi posso farmare le cose adesso vado in miniera e scavo tanto così trovo altro ferro per voi lo fai per noi vengo anch'io lo faccio anche per farmi l'armatura di ferro ah e io invece faccio i totem con dei cestri si ma è 20 minuti che stiamo registrando ok ho capito ma quanto devo tagliare ma se vuoi finiamo l'episodio ma forse anche si se vuoi si adesso lo chiudo l'episodio per questo episodio è tutto ci vediamo alla prossima e ciao questa è la mia pagina di fine video se vuoi vedere il video per sempre clicca qua se vuoi vedere la playlist di questa serie clicca qua se invece ti vuoi iscrivere clicca sulla mia faccia se invece sei su smartphone vai nei link in descrizione o chiudi il video vai sulla mia pagina e clicca sul bottone iscriviti se vuoi seguirmi ci sono anche tutti i link dei miei social network sempre in descrizione ci vediamo al prossimo video e mi raccomando mettete mi piace se vuoi iscriviti